Il motore Energy DCI 130 è collegato a un cambio manuale a 6 marce della gamma Renault. Il motore Energy DCI 160 è collegato a un cambio a 6 marce di tipo EDC. Il motore Energy TCE 200 è collegato a un cambio a 7 marce di tipo EDC. Questi due motori EDC godono dei vantaggi di un comando delle marce specifico. I cadi tradizionali sono stati sostituiti da un sistema wireless che funziona tramite onde. Ciò consente una migliore sensazione durante l'utilizzo del cambio, con un risparmio di spazio e peso per l'ottimizzazione dello spazio all'interno del veicolo. Il motore Energy DCI